La tensione sociale cresce, bollette salatissime che mettono in ginocchio famiglie e imprese. Anche a Taranto, ai piedi della Prefettura, una manifestazione di protesta attraverso l'Unione Sindacale di Base che aderisce alla Federazione Sindacale Mondiale. Questo perché? Perché le istituzioni nazionali e sovranazionali sono al servizio dei grandi potentati economici e finanziari. Ci vuole un salario minimo per legge di 10 euro l'ora che consenta ai lavoratori e alle lavoratrici di arrivare a fine mese, ci vuole un meccanismo di adeguamento automatico dei salari e l'aumento dell'inflazione e ci vuole in questo frangente economico tassare gli extraprofitti. La sola Eni è stato stimato, ha finora incassato 40 miliardi di extraprofitti dovuti all'esorbitante aumento delle materie prime energetiche. Grazie a tutti.